Signori, questa è un'emergenza! Ogni giorno perdiamo un mucchio di soldi perché Pokémon GO ci sta spaccando i culi! Il nostro nuovo gioco, Space Blasters Warrior 3D, che è uscito l'altro giorno, ha venduto solamente 95 copie! Che diamine ragazzi! Ho trovato solamente un gameplay su YouTube ed è fatto da un tizio che si chiama Steve! Che è una roba come tipo 11 iscritti! Ok ragazzi, siamo riusciti a passare il livello del castello magico! Vediamo se riusciamo a passare a... Oh! Oh! Amma mia, che paura! Sì, è stato spaventosissimo! Tipo, anche tipo che il mostro ha provato tipo... Oh no, non sono passati nemmeno 10 minuti! Quindi, cosa dobbiamo fare ragazzi? Cioè, dovremmo creare la nostra versione storpiata di Pokémon GO, giusto? Giusto? Beh, io in verità penso che dovremmo fare un videogioco originale come piace a noi! Se copiamo Pokémon GO, sì, forse faremo un po' più di soldi, ma se ci imitiamo a vicenda va a finire che un'intera industria riesca di cadere nel baratro! Ehi! Ho trovato un Pikachu! Ciao, sono Ludothorn! Adesso sono qui per svelarvi un segreto! Se prendete i miei video senza chiedermi il permesso è freebooting! Ma tanto non ve lo do lo stesso il permesso, perché che cazzo te li ricarichi a fare nel tuo canale di merda i miei video! Ciao! Iscriviti al mio canale! Ciao! 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 Ciao!